Io ci metto a spam! No! Ho il bazooka! Ho il bazooka! Non devi morire! Non devi morire! Non devi morire! No no no! Non devi morire! Non morire! Vai! Vai! Ciao a tutti ragazzi! Oggi abbiamo sulla play PS4 abbiamo un buono gioco che abbiamo ne ho caricato con i fondi non so quanto costava nemmeno io Gratis Gratis costava e si chiama Brawlalla è un gioco di combattimento contro uno uno contro uno sono due contro due noi facciamo due contro due perchè noi dobbiamo essere insieme gioca a una partita europea non lo so cosa sceglie no no fermo! è europea è europa è europa dobbiamo fare fatto! tutti contro tutti eliminazione uno versus uno amichevole due versus due si due due contro due oh che personaggi ci scegliamo? aspetta non ci sono ma provoci prima tu chi scelgo? ma sei blu ryan mamma no io non voglio questo io scelgo vai oh non ci ho scelgo e qua? nooo quanto sei il dragon ball? quanto non so chi è? il dragon ball? ok lui lui eh ma chi è? ok andiamo e tu e tu ryan mi posso? si ecco ma io dove sono? io non so perché non so cosa devo fare dobbiamo combattre ma 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 no ma ecco 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 dove facciamo picchiare? compatti con quadrato quadrato picchi dai hai hai no no ritendi su attento sei morto no sei morto no no ci sono io ci siamo arrivati pam io salto ok io sono quello lì pam io sono il lupo oh non sto buttando uno lupo ahia ora ma dai io ce l'ho io sono i pugni devi prendere quella no è mia è mia è mia nooo no attento forte devo saltare devo saltare Sergio con Sergio fai coli guarda ok una spada una spada dico che è ah salti via uccidi 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 ho un'arma uova aia aia no ok è un in una no 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 salta salta ah ma giusto i percateni devi saltare no salta 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 tanto quelli nooo quando tu te lo sei tornato anch'io ah la panna no 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 salta 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 ok nooo no hanno vinto nooo nooo che facciamo ok rifacciamo rivincita rivincita anzi io me lo scelgo un altro anch'io anch'io io lo scelgo questa volta nooo io lo scelgo lui io lo scelgo io posso scegliere anzi no io lo scelgo lui no io lo scelgo lui il drago anch'io posso no no vabbè il drago possiamo farlo tutto o due tanto vai x x ah posso cambiare a me faccio questo eh mi sono fatto mettere il rosso x x andiamo ok ah qui c'è il campo di allenamento ok così nooo vedi tu lo senti triangolo ma ah ok questa è iniziamo dalla battaglia ma guarda hanno scelto oreo quello che avevo scelto io prima noi ci siamo noi ci siamo no noi ci siamo io non so chi sono io non mi muovo io ci sono ah si il drago è vero ah vero ah vero ah 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 quadrato prendi le spade si con quadrato non hai capito no ah ya prendo quadrato ok l'hai detto ah ho preso un' ascia nooo io li sguardo ah io sono qua no è mia l'ho presa no dai dove so l'aiuto vai via vai via vai via che la faccio da solo è spam è spam è spam ah guarda se non lo spera è spam è spam è spam che c'è sempre quadrato quadrato oh è una bomba sì che ne è wow no 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 non ci lo faremo mai allora prendiamo quelli tioffanti cosa facciamo? io prendo questo io prendo questo io prendo questo io prendo questo conferma niki questo oh sono il nostro con la pistola ho la pistola pensi alla barba ah ah questa è una mena si ah ma io sono io poi facciamo uno contro uno dopo questa partita uno contro uno io contro le dita dai ok noi siamo i rossi io chi sono? i rossi ah no i pugni no sali sali io combatto contro questo qui no io combatto con questo no ahia ho un'ascia è una spada ho le pistole ho le pistole ho le pistole vai via vai ah no 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 vieni ho le pistole vieni qua vieni qua aspetta ok io ho le pistole no ma dove sono? ma dove sono? ma dove sono? tu sei morto sei morto meno uno hai solo tanto più due vite no no ok stam 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 aia attento che fanno male aia aia l'ho buttato questa partita abbiamo vincerla questa partita abbiamo vincerla no aspetta prendo una nuova arma non posso allora lo butto giù lo butto giù aia io ci metto a spam no ho il bazooka ho il bazooka no no non devi morire non devi morire non devi morire ah no 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 aia vieni qua vieni qua e ancora due e ancora due più uno ok io mi prendo quest'arma vado a combattere vai via andate via andate via no no aia 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 vai via ma no hanno tanta vita ho le pistole ho le pistole no combattete aia aia xx no non voglio pam pam e pam e pam e pam e pam e pam e pam aia aia sei male dai bazooka aia vai via ho paura che muori ho paura che muori non voglio no vieni qua vieni qua ma vieni qua vieni qua vai ciao bellissima no aspetta che vieni qua qui ciao ciao da nikitoyz e insieme buono ctivi ok ciao bellissima ciao bellissima per questo video ci vi è piaciuto Se vi è piaciuto iscrivetevi e like, voglio infiniti iscritti, e anche Criccrici TV, ciao ciao da Criccrici TV, e ciao ciao da Criccrici TV, e Niki Toys, e Niki Toys, ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS